Eccoci qui cari amici di Viena Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti. Come vedete oggi ho il mio pannello ancora chiuso qui perché è un po' che non faccio video e oggi, visto che la giornata è fresca, continuiamo a registrare. Allora, oggi vorrei parlare in maniera specifica della gavetta. Quindi la gavetta all'estero, ha senso farla? Come ci si regola? Quanto deve durare? Allora, prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere sul pezzo per quanto riguarda questo tipo di contenuti pratici che vi aiutano ad andare all'estero con le vostre forze e con le vostre gambe. Allora, parlando di gavetta, all'inizio il discorso può essere un po' spaventoso perché lo standard italiano su certe cose è piuttosto alto. Quindi si esce magari da una scuola superiore, dall'università, pensando di essere pronti specialmente se si va all'estero che ha molte più possibilità di lavoro si leggono belle storie in giro di persone che stanno facendo una bella carriera si stanno prendendo delle loro soddisfazioni lavorative, economiche e pensare di dover fare la gavetta sul breve o sul lungo dice ma magari anche no, magari accorciamo tutto questo facendomi fare un bel referra da qualcuno che già conosco in azienda e così risolvo tutto. Bene, se ci riuscite tanto meglio se riuscite subito con le vostre forze a cominciare a fare un percorso professionale meglio ma se non capita subito in questa maniera non c'è nulla da spaventarsi anzi potrebbe essere davvero come si dice in inglese a blessing in disguise cioè una cosa bella una benedizione che avviene una forma diciamo poco poco appetibile quindi la fatica di dover cominciare dal basso magari con un cosiddetto lavoro umile che magari uno deve mettersi a fare il lavapiatti a fare le pulizie a fare dei lavori per cui magari in Italia ci avrebbe anche pensato due volte dice ma aspetto e io ho cominciato così se guardate i vecchi vecchi video in cui racconto come ho cominciato a Glasgow la mia primissima esperienza di lavoro non avevo assolutamente trovato nient'altro era quella è stata quella di cleaner è stata un'esperienza importante breve perché poi ho trovato da fare l'upgrade anche perché sinceramente il lavoro era molto duro e anche perché quello che erano le ore disponibili erano poche quindi diciamo non avrei risolto il problema della mia sopravvivenza non ce l'avrei fatta a pagare l'affitto e mangiare detta in soldoni però diciamo è stata un'esperienza importante perché innanzitutto avevo dei preconcetti su cosa fosse il ruolo pensavo che tutti lo potessero fare che assolutamente non ci volesse nessuna skill e insomma averci provato mi ha dato assolutamente torto mi ha fatto capire quanto maldestro quanto imbranato fossi non che se ci riprovassi adesso sia mandrache per intenderci però è fatto capire che per ogni lavoro bisogna sempre approcciarlo con una certa professionalità perché c'è il sistema per farlo c'è il sistema per farlo bene, velocemente e il lavoro fatto bene poi si rifletterà su come va un ufficio su come va un pub e via dicendo quindi non abbiate paura a cominciare davvero dal basso con la prima cosa anche che vi capita sotto mano anche se avete tutti i titoli per fare tutt'altro perché oltre che a darvi delle skill vi dà anche quella sicurezza interiore che qualsiasi cosa succede nel settore da voi ambito voi avrete sempre almeno un'altra skill per fare altre sapete dentro di voi che lo sapete fare sapete dentro di voi che non andreste non uscireste pazzi se non avete quel tipo di lavoro quindi sapete che potreste comunque girare il mondo facendo quel ruolo perché l'avete imparato a fare il mio secondo lavoro fu il cosiddetto kitchen porter cioè il lavapiatti anche lì ci feci proprio dei video se andate sempre indietro nella cronologia ad hoc ed è un lavoro che aiuta davvero a caricarsi di quella forza di volontà di quella forza di quel desiderio di voler fare altro di voler mettersi in gioco di fare bene quindi io li trovo molto motivazionali questi ruoli molti so che non sono di questo parere però vi dico da qualche parte bisogna cominciare e nel mio caso come appena detto sono serviti per togliermi un sacco di paure di dosso e vi garantisco essendo stato in azienda per moltissimi anni vedo tante persone che hanno cominciato direttamente in azienda non sanno fare granché al di là del ruolo in azienda proprio perché non perché non ci arrivino ma perché non hanno mai avuto la possibilità di imparare altro e vivono con quella paura di dire se qua mi mandano via e se qua chiudono baracche e burattini cosa faccio visto che aziende simili magari non ce ne sono o comunque l'ho arrivato già a un livello per cui a ricominciare dall'inizio non me la sento e quindi si rimane un po' stagnanti con questa paura e si hanno un po' meno possibilità di chi invece dire va bene o qualsiasi cosa si ricomincia e si rimette in gioco quindi io la vedo come una grande liberazione personale quindi non c'è davvero nulla di male nel fare un lavoro che sia un po' gavetta e poi è necessario è necessario anche perché talvolta adesso magari parlo di ruoli comunque junior che uno dice ma no ma in Italia ero già più senior e vi dicendo è necessario perché comunque siamo in un posto nuovo non ci conosce dobbiamo dare una chance a noi stessi di farci conoscere e poi da lì se uno lavora bene si fa il network che deve farsi magari si riesce ad andare avanti facilmente ricordo la caparbietà c'era un ragazzo che lavorava in Mesa questo ragazzo era del Sud America ed era caparbio nel chiedere a tutti se ci fosse nel loro dipartimento qualcosa che si fosse aperto come possibilità e chiedi oggi, chiedi domani questo ragazzo nel giro di pochi mesi riuscì a trovare lavoro poi in azienda proprio negli uffici dell'azienda e con grande orgoglio raccontava questa storia che lui partì proprio dal basso senza come dire né arte né parte non aveva nemmeno delle carte accademiche che lo aiutassero e riuscì poi a fare un lavoro che magari altri con le carte giuste con l'esperienza giusta non riuscirono ad entrarci proprio perché magari non avevano il network giusto o anche la spinta giusta perché quando uno si fa vedere proattivo lo vedi in Mesa che lavora bene lo vedi che è ambizioso lo vedi che è simpatico si fa volere bene se gli puoi dare una mano gliela dai tanto non ti costa niente e poi anche magari fai un bel servizio al tuo capo ufficio perché porti dentro una persona di valore che ha voglia di lavorare che ha voglia di sbattersi quindi anziché avere il rischio di uno che non conosci cosa fai? magari dici ah guarda ho visto quello se hai bisogno vai insomma mettiti in contatto bene ragazzi quindi non abbiate paura di cominciare dal basso se quello è il se quello è il cruccio dice cosa farò? perché una volta che siete lì vi state lavorando bene o salire si è sempre in tempo mentre invece per togliersi certe paure primo il diario di dosso cosa farò? cosa faccio? se mi mandano via da questo ufficio? non si è più in tempo perché uno non è che ha 55 anni e ha la stessa voglia di mettersi in discussione di quando è più giovane quindi davvero non fatevene un problema e vi garantisco che potrebbe davvero aiutarvi a diventare ancora più determinati e più vogliosi di fare bene nel vostro viaggio all'estero quindi vi auguro che questo messaggio vi sia mi auguro che questo messaggio vi sia piaciuto noi ci vediamo nei prossimi video e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti a presto buona giornata ciao